Non è già la prima volta che succede ma quando andiamo sotto non riusciamo a reagire da grande squadra quindi questo lo paghiamo e lo stiamo pagando. Non riesco a capire il motivo e spero che la squadra si rifà sul campo perché è l'unico modo dove ne possiamo uscire. L'unica cosa positiva che ti posso dire è che nonostante noi abbiamo preso tanti schiaffi poi la settimana dopo abbiamo sempre reagito da grande squadra perché comunque l'abbiamo dimostrato sul campo quindi capace che noi andiamo a regge e andiamo a fare punti. Questo poi non si sa ma il nostro obiettivo deve essere quello e dobbiamo cercare di dare una svolta soprattutto partendo dalla partita di domenica che comunque sappiamo che è una partita complicata. Purtroppo oggi il campo dice che sarà un campionato di dofferenza, un campionato dove tutti dobbiamo entrare nella mentalità che ci dobbiamo salvare. Poi il calcio è strano, calcio capace che vinci due o tre partite di fila e cambia tutto però ad oggi la situazione è questa e quindi tutti dobbiamo mentalizzarsi e capire che sarà un campionato tosto dove dobbiamo ottenere la salvezza il prima possibile, c'è poco da fare. No, guarda io corro e lotto sempre dove vado vado perché sono un tipo di giocatore che non si nasconde oppure non aspetta la palla buona per fare gol. Certo, assolutamente se arriva lo faccio quindi non è quello però non è neanche il fatto che non mi danno una mano, anzi dipende anche dalle partite molte volte siamo, per dirti, la partita di domenica eravamo in difficoltà tutti quindi automaticamente non riusciamo a fare quello che di solito facciamo perché a Ponte d'Era solo non mi ci sentivo, ecco, questo è.